Oggi faremo il bimbi tiramisù, il tiramisù è andorci conosciuto credo di tutto il mondo è però un dolce che prevede l'uso di caffè, di cuore, di cioccolato e non è quindi una cosa di mascarpone che è un formaggio molto grasso e non è quindi molto adatto ai bambini Allora la ricetta che vi propongo oggi invece è il tiramisù che va perfettamente bene per i bambini Gli ingredienti, trattiamo i biscotti tipici savoiardi, tipici del tiramisù Invece del mascarpone useremo la ricotta, 200 grammi di ricotta Due uova, un uovo per ogni 100 grammi di formaggio Zucchero di canna, un cucchiaino abbondante per ogni 100 grammi di formaggio Ed è la frutta La frutta che ho scelto oggi, ma solo perché ce l'avete in casa, sono pesche sciroppate che sono dei lamponi Cominciamo adesso a preparare il nostro tiramisù Affettiamo le pesche Separiamo gli albumi di tuorli Separiamo gli albumi di tuorli Aggiungiamo 2 cucchiai colmi di zucchero E adesso togliamo lo Spettiamo gli albumi di tuorli Ciò ci sono Soscolate bene, ben cotta, con il cuorlo e lo zucchero. Incorporate gli albuni montati a neve con l'impasto, mescolando delicatamente. La crema è pronta. Una pirofina, il succo delle pesche, i savoiardi. Inveviamo i savoiardi, il succo. Prendete ora la frutta. E ora la presa. Ancora un po' di lamponi per decorare. Se volete, potete aggiungersi una sporzottina di zucchero. Adesso deve riposare qualche ora in frigo. Meglio ce lo lasciate lì fino a domani e diventerà ancora più buono. Buon appetito a voi e ai vostri bambini. Buon appetito a tutti. Buon appetito a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.